Il mio sogno più grande è quello di viaggiare per tutto il mondo e cercare di vedere un po' tutte le città. Lo Stato non è sempre vicino ai giovani perché a volte non li considera abbastanza all'altezza di portare avanti questo paese in un certo senso. La tecnologia può essere sia un bene che un male, nel senso che se viene usata troppo a volte può diventare una dipendenza, mentre invece se viene usata nel modo giusto può essere anche un modo più facile per comunicare. Ho paura di non riuscire a realizzare i miei sogni per quello che vorrei trasferirmi all'estero perché credo ci siano più possibilità per i giovani. C'è il razzismo perché le persone hanno ancora questa credenza che quelli che vengono da altri paesi rappresentino il nemico e quindi sì, credo di sì.